Nel 69 cominciò l'avventura della famiglia Tedone. Per festeggiare i 50 anni della sfornata, abbiamo rispolverato l'antica ricetta dei mastri pasticceli, una selezione dei migliori ingredienti e una lunga lievitazione. Per creare un panettone ricco, digeribile, semplicemente buono. Il panettone secondo tradizione. Lo trovi nei nostri punti vendita la sfornata. Tedone, maestri della lievitazione.